L'emergenza Covid ha posto di nuovo l'attenzione sulla necessità di arrivare al processo penale telematico. La priorità è arrivare presto al fascicolo telematico, anche se l'udienza nel penale non potrà mai essere solo cartolare. In questo momento è una duplicazione del lavoro, però è un punto necessario perché bisognerà assolutamente passarci al processo telematico. Questo per quanto riguarda però, naturalmente, processo telematico vuol dire avere il fascicolo telematico. Altra cosa è l'udienza che, come dico, nel penale non potrà mai essere un'udienza scritta o un'udienza solo da remoto, perché ci sono delle attività assolutamente necessarie in presenza. Ciò non toglie che, quello che dico io, anche nel dibattimento ordinario, che è quello che dovrà essere fatto in presenza, alcune attività possono essere fatte da remoto. L'esempio tipico deve venire a testimoniare un test della polizia, magari della questura di Pisa, che ha fatto magari un'attività di indagine nel momento in cui c'è stato reato. Niente di più probabile che il poliziotto sia stato trasferito a Palermo. Allora, se arriva, magari dopo due anni, a fare il processo, bisogna far venire questo poliziotto da Palermo a Pisa, per fargli ridire quelle cose di cui molto spesso non si ricorda, chiede di poter consultare gli atti, legge gli atti e poi ridice quello che... Allora, in questi casi, avere la possibilità di fare, ad esempio, un'udienza a distanza dal remoto e acquisire quella testimonianza dal poliziotto che deve confermare sostanzialmente le attività da lui svolte sarebbe un vantaggio per tutti. Allora, in questo casoiansi di grazie a tutti. . Grazie.